È un grande orgoglio perché è il primo negozio che viene via da Vienna, per cui Trieste, mi fa molto piacere, c'era piena di gente e poi è sempre bello mangiare una feta di torta sacca. E sulle polemiche riguardo i prezzi della feta singola? Insomma basta polemiche, io sono un ottimista, insomma se hai i soldi vai, se no guardi.